Buongiorno, Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda la Commissione, il buon Snowden è stato rilevato al palco di Rav Monster. Il buon anno, a cui abbiamo fatto un po' di r Daily Watch, è stato rilevato al palco di Rav Verbindro. Il lavoro del nostro lavoro delנio, e il lavoro di un nuovo lavoro di quello che mi ha fissuto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.